Allora, ciao ragazzi, scusate tanto per l'assenza, scusate anche la voce in bassa, ma un video di spiegazioni per questa assenza andava fatto prima di poter caricare altri video. Allora, il motivo di questa assenza? Fondamentalmente sono due. Il primo è che ho presentato il mio primo libro e ho intenzione di dedicare la spiegazione di questo libro in un altro video a parte perché deve essere incentrato solo sul libro e perché ho intrapreso comunque una... come dire... sprendo parte di un gruppo musicale e quindi andiamo suonando per le feste di piazza, per comunioni, per matrimoni e quindi anche per questo ho la voce in bassa perché ieri sono stata a una comunione, mi sono divertita tantissimo e quindi anche per questo non ho più tanto tempo. la mattina sto lavorando, come sapete, a un giornale online e quindi mi rimane soltanto il pomeriggio per, diciamo, per studiarmi delle canzoni, per dare delle ripetizioni perché sto danno anche delle ripetizioni in questo periodo, però adesso con, appunto, le belle stagioni sicuramente mi trasferirò nella casa... nella casa in campagna che abbiamo e quindi avrò molto più tempo per potermi dedicare anche ai video, finalmente fare dei video di... sono belli colorati, sto anche trucchi colorati, sto anche truccando delle mie amiche per varie feste e quindi perciò sono stata particolarmente impegnata e soprattutto per continuare a fare i video blog che mi divertono tanto, domenica scorsa sono stata, non questa qui, ieri, ma l'altra sono stata a mare come primo giorno, per fortuna qui nella mia città Benevento era tutto nuvoloso e siamo arrivati a mare che c'era un bellissimo sole speriamo anche domenica questa qua perché io e mio fidanzato lavoriamo tutta la settimana e quindi abbiamo soltanto la domenica per poterci rilassare un po' e quindi spero di poter fare un blog domenica anche perché il posto è molto molto bello, l'acqua è molto molto bella cristallina e se ci riesco appunto vi ricordo con me, ci saremo a fare questo video di spiegazioni di questa assenza anche perché molti mi hanno chiesto come mai non... non stavo continuando a fare video, alcuni mi hanno contattato anche personalmente e ho detto che avrei fatto un video di spiegazioni si è rotta anche la mia macchinetta fotografica che fa anche i video, si è rotta e quindi adesso sto con una Samsung dei miei e quindi questo è tutto e niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!